Lascio la parola a questo punto per le conclusioni in qualche modo a Maria Rita Parsi che ricordo forse plenonasticamente psicoterapeuta, scrittrice ma anche membro del Comitato dell'ONU per i diritti dei fanciulli e il cui intervento ha come tema cyberbullismo, la violenza virtuale come risposta a difesa o esaltazione della violenza reale ma adesso mi accennava insomma anche ad altri concetti che credo voglia illustrarci di sicuro interesse, prego. Io ho cambiato impostazione al mio intervento man mano che sentivo l'intervento che ha fatto la collega e poi la pedagogista quindi dirò se permettete sull'onda di quello che ho scritto, che ho pensato di portarvi qualche altra cosa ne aggiunta. Vorrei lanciare, ho scritto dieci sassolini, dieci punti sui quali potremmo riflettere insieme. Il primo punto mi è venuto in mente di suggerirvi un testo fondamentale perché l'intervento è sul cyberbullismo, quindi il tema è ovviamente persecuzione, violenza, abuso, difficoltà di comunicazione, espressione della difficoltà di comunicazione. Allora il primo libro che mi viene a suggerire, io non uso mai le slide, è Anatomia della distruttività umana di Eric Fromm. Sapete perché? Perché, e voglio arrivare a quello che dice Fromm, è quello che noi come fabbrica della pace, movimento bambino on loose, come membri del comitato unico italiano, membro del comitato ono dei diritti dei bambini abbiamo elaborato in questi ultimi quattro anni. Che dice Eric Fromm? Eric Fromm dice una cosa sostanziale che ci riguarda tutti, che riguarda però sostanzialmente i minori che questa coscienza ce l'hanno come memoria del corpo, come memoria della specie, come ancora qualcosa che non hanno completamente messo a fuoco, razionalizzato, governato, eccetera. Parlo dell'angoscia di morte, madre di tutte le angosce umane. Che dice Fromm? Fromm dice come la nostra vita, la nostra crescita è strutturata sulle difese che noi organizziamo contro questa angoscia di morte. Che ci coglie immediatamente, appena usciamo dal grembo della madre, appena siamo fuori da questo contenitore, che tante volte è stato doloroso, però che ci ha permesso di nuotare comunque in un contenimento dove non c'è fame, magari c'è paura, arrivano delle scopi, però voglio dire ci sono infinite comunicazioni neurochimiche tra madre e bambino prima che un bambino e una bambina vengano al mondo. E quella parte formidabile, questo primo incontro incredibile due in uno, viene spezzato, che sia andato bene, sia andato male, dal fatto che esci dal corpo della madre. Appena tu esci dal corpo della madre, la memoria del corpo comincia a funzionare come sono nato e non lo pensi, lo senti, se non verrò accudito morirò. Quindi l'angoscia di morte entra in funzione in quel momento. Devi essere accudito altrimenti muori. Ci deve essere qualcuno che ti tiene, ti soccorre, ti sfama, altrimenti muori. Quel primo distacco è il primo di tutti gli stacchi, suggerisco un secondo libro. Di stacchi, Judith Viost, la nostra vita è fatta di infiniti, continui distacchi. Pensate, mentre parlo, pensate al virtuale. Attacchi, distacchi, attacchi, distacchi, attacchi, distacchi, attacchi, distacchi. Non stacco mai, mi connetto, sono sempre connesso, sono sempre collegato. Allora, come dice From che noi ci difendiamo da questa incredibile angoscia di morte che ci coglie man mano che cresciamo? Ci difendiamo e ci organizziamo nei seguenti modi. Difesa religiosa, io morirò ma c'è un'altra vita. Se c'è un'altra vita, muoio ma. Seconda, difesa demografica, io morirò ma i miei figli continueranno. Difesa estetica, io morirò ma la bellezza non morirà mai. L'arte, la letteratura, la pittura, la musica, perché gli esseri umani producono tutta sta meraviglia. Perché il mondo è popolato d'arte, perché una risposta continuerà, ci sarà. Lascerò traccia, le tracce rimarranno. Come hanno cominciato con i graffiti nelle caverne, hanno continuato poi per sempre gli esseri umani ad esistere insieme alle loro tracce e oltre le loro tracce e la loro esistenza per traccia. La difesa ideologica, io morirò ma le mie idee non moriranno mai. Non è inutile che vi parlo di partiti di questi tempi perché è una tale tristezza che mai passiamo. La difesa distruttiva, io morirò ma morirete tutti. Quindi, e questa è una bella difesa che è molto collegata all'ISIS, no? Non ti preoccupare che ti faccio fuori. E questa difesa qui, tenetela bene presente, perché questa difesa è una difesa che nei giochi che vengono, scusate se io faccio ogni tanto ponte col virtuale, pensate ai giochi che giocano i ragazzini sul virtuale. Io morirò ma mori pure tu. Anzi, tutta la sfida è che io non muoio e ti ammazzo a tutti. E adesso aggiungiamo due difese che aggiungiamo noi come Fabbrica della Pace e Movimento Bambino. Non abbiamo aggiunto a quelle del maestro Eric Fromm due difese. La difesa scientifica, io morirò ma gli scienziati stanno trovando delle soluzioni che permetteranno di capire come funziona la vita per l'eternità dell'essere umano e quindi in prospettiva mi faccio ibernare come la ragazzina di 14 anni che dice ibernatemi perché tra cent'anni magari posso risorgere, posso rinascere. Sto morendo ma nascerò, rinascerò. Che poi la stessa storia di morte e resurrezione. E un'ultima, permettete che io mi interesso del discorso, non perché io amo il virtuale, perché io ho dei telefonini che se li vedete in confronto alla preistoria è nulla. Non mi piace il mondo virtuale ma lo studio perché ho capito la fondamentale e decisiva importanza di quello che sta succedendo nella nostra esperienza e nella nostra vita con l'avvento del virtuale, già con la televisione ma poi adesso con il mondo virtuale che rende obsoleta di giorno in giorno qualunque invenzione o qualunque utilizzo del virtuale hai fatto il giorno prima. e già nel 2000 avevamo scritto insieme ad altre colleghe chat ti amo e poi l'immaginario prigioniero nel 2010 che purtroppo non ho ritrovato là fuori. E qual è l'ultima difesa? Io morirò ma il mio avatar non morirà mai. Eccolo qua. E guardate che questo non è uno scherzo. Questa è esattamente la ragione per la quale i ragazzini sono fondamentalmente, ragazzini e ragazzini, connessi, nel virtuale non si muore, l'avvata di fare quello che vuoi. Allora scusate, già, e adesso torno a fare la psicologa dell'età evolutiva, qual è il principio fondamentale che anima la fragilità estrema del bambino? L'onnipotenza. Che pensano i bambini? Tutto quello che succede, mamma e papà si separano? Di chi è la responsabilità? I più piccoli pensano io. Pensano sempre, è successo, hanno un pensiero, si chiama pensiero magico bambino, con i quali modificano, pensano di poter, quando odiano sono l'odio, quando amano sono l'amore, quando costruiscono sono la costruzione, quando invidiano sono l'invidia, sono esattamente le cose che stanno neurochimicamente provando. Quei ragazzini con internet, che crescono, attenzione, ci crescono da quando nascono. Signori, io ho una ragazzina di due anni e mezzo, che fa delle robe che io non sarei capace a fare nemmeno dopo un corso di insegnamento, due anni e mezzo. Sposta le cose, ma non sa scrivere, ma già si sa connettere, sa qual è il numero, lo riconosce visivamente, spinge e si connette. Sapete che vuol dire questo? Io ho un cordone ombelicale, col virtuale, che non spezzo mai. Sapete che vuol dire non nasco mai, non muoio mai, tanto per tornare a From, nel virtuale non si muore. E sapete perché non si muore? Noi abbiamo imparato questo messaggio dalla televisione. Non convivono forse in televisione vivi e morti? Non apri la televisione e vedi gente che è morta, che sta lì, che parla, ride. E tu non te la godi come se fosse, dice ma prima c'era già il cinema, è vero, prima c'era già il cinema, infatti dal cinema in poi, dal cinema in poi, quando il virtuale, al di là della fotografia che ferma l'attimo, ha creato il movimento, perché attenzione, il virtuale è movimento, non è stasi. E la connessione non è stasi, è movimento. Allora, adesso non voglio dire, adesso questa è uscita fuori dal futurismo, no, scusate ma anche il futurismo diceva questo. Perché noi siamo oggi a rivalutare i futurismi? Perché il futurismo aveva intuito. Tutto il discorso del movimento che il virtuale ha realizzato, in un battimaleno, in un momento, tac, mi collego, tac, prendo, tac, ci sono. Ed è un potere in mano a un bambino, sapete come pensiero magico e bacchetta magica? Quello, il telefonino, è una bacchetta magica. Allora, adesso facciamo, scusate, faccio il terzo passaggio. Pensate un po' a crescere con la bacchetta magica in mano che diventa. Che vi racconteremo? Beh, io tutti i giorni mi misuro lavorando con i bambini, lavorando con, attenzione, i bambini che sono in paesi di sottoviluppo fenomeno, feroce, proprio nel mondo virtuale. Le ragazzine, non vi racconto, sperano il riscatto. Perché da lì arrivano un'infinità di notizie, di possibilità, di connessioni, che loro non avrebbero per le condizioni che hanno. Ci sono bambini nei paesi più poveri del mondo che non mangiano ma hanno il telefonino. E non è una sciocchezza questa. Questa è una nota determinata. Da una parte, se la legge è positivo, sono connessi, globalizziamo, si evolve. Dall'altra però non è così. Perché accanto a quel telefonino c'è la fame, c'è la guerra, ci sono lo sfruttamento dei bambini, ci sono 200 milioni di bambine infibulate, 140 milioni di bambini che vengono arruolati, 150 milioni di bambini che vengono sfruttati sul lavoro. E sono cifre approssimative, perché quelle che non sono ufficiali, immaginatevele. Non vi dico quanti sono i bambini che non sono stati mai registrati all'anagrafe. Vedete? Mentre avanza un mondo di magie, di connessioni, di informazioni infinite, molte delle quali sono violentissime, e adesso il terzo sassolino è proprio sulla violenza, mentre viaggia questo, contemporaneamente, viaggia tutto il resto. Quindi io vorrei dirvi che il mondo che noi stiamo affrontando, affrontando il virtuale e i bambini più piccoli col virtuale, e i preadolescenti e gli adolescenti, è un mondo che permette a loro virtualmente di conoscere un mare di cose che noi non conoscevamo, e contro le quali sono costretti a lottare o a chiudersi, ad aderire o ad allontanare. Scusate, faccio un quarto sassolino. Noi come Fabrica della Passo e Movimento Bambini abbiamo fatto un'indagine, un po' da ridere, sui telegiornali, quelli della televisione generalista, ci fosse una buona notizia. Cioè tutti i giorni i bambini, oltre agli adulti che mangiano a casa, il telegiornale lo vedono, no? Fermo restando che la televisione ha pensato bene di non fare più il Tg per i bambini, che era stata un'istituzione importantissima, e si collegava alla scuola, e andava nelle scuole, questo è il classico, no? Una televisione pagata dagli utenti, che naturalmente le cose per gli utenti non le fa. Manda i programmi per le famiglie, li manda di notte. I programmi di formazione, li manda di notte, perché l'importante è Sanremo. Sanremo dura, mentre la famiglia poi va a passarla come ti pare. Torno, adesso mi sono persa il filo, per arrabbiarmi. telegiornale per i bambini. Abbiamo fatto quest'indagine e abbiamo notato che il 73,2% delle notizie che vengono date per il telegiornale sono notizie di guerra, incidenti, uccisioni, massacri, calamità naturali o provocate dagli uomini, delitti, miseria, povertà. E il pezzettino che finisce, indovinate a che è dedicato? No, dai, al calcio! Il finale, adesso voi tornate a casa, vi vedete un telegiornale e vedrete che alla fine c'è il calcio. Quando non parlano del fatto che pure il calcio è ammanicato con qualche guai, il calcio è l'unica notizia, no? Poi c'è qualche volta, generosamente, il tema, è morto Tizio, è morto Caio tutti i giorni, ovviamente è morto Squittieri, è morto quella. Poi c'è qualche notizia allegra, tipo, Bob Dylan ha preso il Nobel, e lo ripetono 20 volte, ed è una notizia, attenzione, che non riguarda la gente come noi, non riguarda la famiglia, prima agenzia educativa, non riguarda la scuola, non riguarda i mezzi di comunicazione di massa, terza agenzia educativa no, è il mezzo di comunicazione di massa che ci comunica notizie per gente elevata, fa più effetto Belen che quello che succede a scuola tutti i giorni quando dobbiamo integrare, fare un meccanismo di integrazione multidisciplinare, multietnica tra ragazzini. Allora, quinto sarsolino, non so se era il quarto o il quinto, che mi viene in mente, mi viene in mente di suggerirvi un terzo libro per capire, dal punto di vista psicologico, come affrontare con i ragazzi il mondo virtuale. Mi viene in mente un libro che si intitola Il Signore delle Mosche. Chi l'ha letto, Goldwyn? Brahe, meno male. Chi non l'ha letto, lo prego, lo legga, oppure guardi in internet il film che ne ha fatto Peter Brook. Che succede a questi ragazzini che sono me, questo libro è la metafora del mondo di oggi. Che succede a questi ragazzini? C'è una scuola inglese, ragazzi di seconda, no? 14, 15, 16 anni, tra scuola media, tra media e superiore. cade l'aereo, tutti gli adulti muoiono su un'isola, tutti gli adulti muoiono, rimangono soli i ragazzi. Che fanno i ragazzi? Tutti maschi, eh? Tutti maschi, quindi è una comunità al maschile e anche questo non è un discorso da poco. Apro e chiudo parentesi, sperando poi di ricordarmi quello che stavo dicendo perché parlo a braccio. Non c'è stato un commento, voi avete visto quello che è successo nell'ultima storia di partito, abbiamo sentito commenti solo maschili, avete sentito una donna che ha commentato? L'ascissione? Se l'avete sentito voi brave, io no. Quindi anche la storia di Goldwyn non è un caso, è solo un mondo al maschile. Tutti i ragazzi, che fanno questi ragazzi? Perdono il contatto con gli adulti, gli adulti non ci sono, l'isola è loro, completamente, la devono esplorare, solo loro smanettano in quest'isola e dico smanettano per introdurre il tema del virtuale. Come si organizzano? Si organizzano secondo quello che hanno imparato dagli adulti quando vivevano nella comunità sociale. Quindi si danno dei punti di riferimento. C'è un leader che tiene acceso il fuoco, che organizza le leggi, che ha come collega un cicciottello con gli occhiali, che è l'intellettuale, che tiene i conti, che tiene l'organizzazione. E poi c'è un giovane, il capo dei guerrieri, diciamo dei cacciatori, che va a procurare tutti i giorni il cibo. Sapete che succede? Per un po', tutte le cose funzionano. Secondo le regole che i ragazzi hanno acquisito. Dopo un po', però, questo libero territorio senza leggi, dove nessuno ha sancito e nessuno controlla, dove partendo dall'iniziale informazione che si hanno, si è finiti col diventare delle persone che agiscono quotidianamente in un territorio libero, diventa qualcosa di atroce. Perché che succede? Che la belva umana si rifaviva. Il capo dei cacciatori dice ma sono io che porto il cibo, sono io che ho il potere in mano, allora adesso il capo lo faccio io, sia per la caccia che per il resto, e tu non ci stai, tu te ne vai. E quello dice no, sono io che tengo il fuoco. Sembra un discorso maschio-femmina per la verità. Sono io, eh sì, perché il fuoco l'are, il fuoco. Sono io che tengo il fuoco, sono io che, le regole hanno funzione, bisogna rispettare, eh no, no, le regole le faccio io con la forza, perché io porto il cibo, perché io sfido la natura. E la natura, ecco qui il titolo, diventa la testa di un maiale tagliato e infisso, in cui tutti intorno ci sono le mosche. Sapete che succede? Che il capo dei guerrieri ammazza qualcuno, dei giovani, dei ragazzini che sono dissidenti e poi sta per uccidere anche il ragazzo rappresentante, oltre che pestare gli occhiali dell'intellettuale cicciottello che subito diventa una vittima, ma quello che è più importante sta per essere fatto fuori quando guarda un po', ritornano gli adulti. E il povero ragazzo inseguito che stava scappando e stava per essere ammazzato viene salvato. Perché io dico questo? Perché il virtuale è la stessa storia. Sono entrati nel mondo virtuale i ragazzini, l'isola era inesplorata, solo loro cominciavano a esplorarla andando in giro, eccetera, eccetera. Piano piano, in quest'isola inesplorata, in cui c'erano soltanto loro, senza mediatori, perché detto fra noi, gap generazionale, quinto puntino, o sesto, non mi ricordo più, il gap generazionale è che loro conoscono molto di più del mondo virtuale di quanto noi anche perché sono partiti indagandolo. È stato il loro gioco, gliel'abbiamo fatto fare anche perché stanno molto in silenzio quando giocano. Non rompono i cabassisi, stanno tranquilli. Ore, 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 ore. Bene. Che hanno fatto? Hanno fatto esperienza di un mondo senza leggi dove possono vedere quello che gli pare, compresa la testa di maiale tagliata con le mosche intorno che sono terrificanti documenti di violenza e abuso sessuale, di guerra, cose criminali, come ci si suicida, di tutto di più. E loro sanno come accedere anche se noi impediamo l'accesso. Sanno come manovrare, sanno come bypassare i blocchi perché sono esperti. Loro, come dice il bellissimo fondatore di internet, sono più pirati che ammiragli. Sapete che vuol dire questo? Significa che noi abbiamo consegnato un mondo senza leggi, senza il patrimonio di regole enorme a dei ragazzini che le leggi si devono fare da loro. E sapete che hanno fatto i ragazzini se a sto punto ci hanno messo quello che gli diamo tutti i giorni noi, la violenza, l'abuso, il maledetto, oltre le cose buone. Perché noi diamo anche tante cose buone ai bambini. Cioè noi diamo mille, diamo amore, diamo rapporti, diamo affetto, diamo oggetti, purtroppo troppi, diamo un sacco di roba ai bambini, ma diamo pure litigi in casa, separazioni costanti, conflitti infiniti, manifestazioni di disagio tra famiglie, problemi di lavoro, ne vediamo tutte queste cose, no? E se non le mediamo, se non abbiamo chi a scuola per esempio ci aiuta come seconda agenzia educativa, se non abbiamo questi passaggi, ma abbiamo solo il rifugio del mondo virtuale, virtuale. Sapete che cosa andremo piano piano a produrre? Sempre di più? Io ho parlato poco del cyberbullismo, ma all'ultimo punto ci arrivo. Andremo a produrre una bella sindrome ikikomori. Sapete che vuol dire? Vuol dire che il mondo è talmente pesante e fastidioso, soprattutto se, attenzione, io non sto parlando di tutti i ragazzi, sto parlando di quei ragazzi che non hanno dei genitori che dicono tu lo usi da tot a tot in sto tempo, che conoscono alfabetizzati uguali, che a scuola dicono si usa così, non stiamo parlando di questa meraviglia che pure potremmo attrezzare. Stiamo parlando dei ragazzini che abitualmente para un colpo, para l'altro, si trovano in situazioni di difficoltà, con famiglie anche problematiche, con momenti di difficoltà, quindi con tutta una serie di difficoltà e di passaggi da fare, i quali di fronte a questo possono mettere in atto, e lo stanno cominciando a mettere molti ragazzini, attenzione, più bambini che bambine, le ragazze praticamente hanno più contatto col quotidiano, i ragazzini molto meno, per il quotidiano intendo mangia, briga, vesti, fai, eccetera. Bene, si chiudono in camera, spesso non dormono perché stanno incollati ai vari strumenti telematici fino a tardi, la mattina non vanno a scuola, in Giappone questa crisi è diventata una crisi in pochi anni di un milione di ragazzi, non vanno a scuola, attenzione, una società come quella giapponese non è la nostra famiglia dove c'è, la società giapponese è una società dove tutti lavorano in un certo modo, inquadrati è, la scuola è altamente competitiva, devi ottenere risultati e più è forte questa possibilità, più la caduta è stata enorme, non ci vado a scuola, perché tanto ho il mio mondo virtuale, le cose che voglio sapere le apprendo da lì, mi interesso, mi faccio, non ci vado, mangio in camera, dormo in camera, vivo in camera, la mia tana me la sono ricavata, al massimo esco la notte, col mio animale di riferimento perché la pet therapy funziona e quindi io bypasso la scuola, quindi non c'è più una dispersione scolastica da malessere, da criminalità, da disagio, eccetera, c'è una dispersione scolastica da sovrabbondanza, da ipertecnologizzazione, da assenza della famiglia, da vuoto, da solitudine, allora io vorrei che voi non scordaste, ricordaste che ci troviamo di fronte a un esponenziale, noi stiamo parlando, settimo punto, di cyberbullismo, bene, beh però insieme al cyberbullismo per cortesia, sottolineate questa sindrome di Kikomori, perché stiamo scrivendo in questi giorni un libro che si chiama Generazione H e stiamo raccogliendo le esperienze dei ragazzi con internet, con i telefonini, con gli smartphone, con Instagram, con Ask Me, con YouTube e stiamo cominciando a capire che c'è un mondo intero di gente che indirizza, YouTuber, no? E ci sono, voi forse non lo conoscete, vediamo se siete acculturati, sapete chi è 5J? 5J? Ecco, e te lo sapete, meglio voi che io, io l'ho scoperto da poco, è uno che sparolaccia infinitamente, che continuamente comunica con gente che gli appare mentre lui parla su, che riceve telefonate, che dà pareri, e quello è un modo di, sapete che abbiamo pensato noi, che dobbiamo andarci in internet d'ora in poi, dobbiamo cominciare a dialogare con quelli che fanno opinione, ma gli adulti devono cominciare, ma dobbiamo farlo, dovete farlo a scuola, dovete farlo a scuola, e qui ottavo punto, oh signore, mi scuso moltissimo, mi sono un po', mi sono un po' caricata, ci basta un quarto d'ora per fare le domande, sì, finisco, credetemi, mi sono emozionata perché ci credo, che stavo a dire? Andate su, andate su, per me, per me è molto importante scoprire questo mondo accanto ai ragazzi, perché io di solito, non, non, noi non abbiamo questa cultura, se voi mi dite che fai tu, io leggo un libro, se io propongo un libro a dei ragazzi, lo vanno a guardare su, sul tablet, allora, secondo me questo, questo passaggio, è sempre lettura, ma non è più la lettura con l'oggetto, non è più quel passaggio lì, quindi, quello che in questo momento mi sembra rapidissimo, importante, è, vi devo dire delle cose rapide, mi sono, sì, allora, cyberbullismo, che mi viene in mente, mi viene in mente che i cyberbulli hanno un elemento, un elemento in più, quindi, detta la sindrome Kikomori, l'elemento in più del cyberbullismo, è, questa possibilità dell'anonimato, io ci ho fatto tutto l'intervento, poi ve lo lascio così, magari quello che avevo scritto, magari può essere utile, perché era frutto di ricerca, eccetera, quello che mi colpisce nel cyberbullismo, è che, il bullo, tu lo vedi a scuola, è diretto, cioè, ti fa una coazione con altri, ma tu sai chi è, no, il cyberbullismo, no, e questa è una cosa gravissima, quando si parla di penalizzazioni, eccetera, quando si parla di difficoltà, il cyberbullismo, perché induce, perché induce malessere psichico, perché induce anche voglia di morire, anche questo aspetto suicidario che noi non abbiamo sottolineato, ma che vi prego, non scordate mai, perché ho cominciato con l'angoscia di morte, vorrei finire simbolicamente col suicidio rituale, perché è vero, e vorrei finire, guardate che quando c'è una sindrome di Kikomori, e ritorno un secondo di Kikomori, sapete che quei ragazzi lì stanno facendo un suicidio, sai che stanno dicendo quelli lì? Noi nel mondo reale non ci vogliamo stare, siamo andati nell'altro mondo, quindi simbolicamente che vuol dire? Io qui con voi non ci sto più, sto altrove, quindi quel suicidio di cui parliamo, di cui praticamente pensiamo, si ammazzano, si tagliano, si fanno, non c'è, c'è quello virtuale, me ne vado, non c'ho più bisogno di te, allora che significa un virtuale scollegato dai rapporti affettivi? Significa che nel cyberbullismo io applico le cose peggiori che mi sono state insegnate, tra cui un anonimato per ferirti, nemmeno mi prendo la responsabilità del confronto, sapete cosa ha tolto il digitale? Anche inizialmente quando c'erano le chat, non si conosceva la gente, non si vedeva, adesso si vedono in fotografia, ma l'anonimato, il nickname, il fatto che tu potevi dire sono quello e non sono quello, che puoi trasformarti, cioè in pratica è la trappola del mentitore, di quello che ti può far male, di quello che ti può ferire, di quello che ti può ferire senza che tu possa reagire, senza che tu possa poi puntare il dito e dire no, o possa dire me l'ho fatto tizio. Allora, per cortesia, nel discorso del cyberbullismo va detto ai ragazzi, intanto va potenziata, e qui dico la nona delle mie esigenze, io chiedo, vi manderò anche quello, che col decalogo della pace, quello del movimento bambino, noi abbiamo indicato al settimo punto, le scuole, come centri culturali polivalenti, dove la mattina si può fare di date, il pomeriggio sono 41.000 posti, che possono diventare centri culturali polivalenti, più biblioteche, non dico tutti e 41.000, diciamo 30.000, va bene? E far circuitare questa informazione, mettere in moto quei laboratori che uniscono, cioè se noi non troviamo, scusate voi siete una maggioranza insegnanti, io non ho altra speranza che nella scuola, nella scuola si incontra tutto, se c'è investimento nella scuola, formazione dei formatori, rispetto degli insegnanti, equip ogni scuola, un'equip medico psicopedagogica, con i mediatori, è una vergogna che non ci sia, è una vergogna che non ci sia, non è un paese civile, è un paese dove noi abbiamo la possibilità di farlo, noi lo dobbiamo fare, io sono un'insegnante come voi, ho cominciato a fare l'insegnante a 19 anni, come supplente, non ho mai smesso, è una vergogna, la scuola è l'unico punto, è lo zoccolo duro, è quello che può cambiare il paese, è quello che può trasformare, la velocità delle tecnologie che non riusciamo ad assorbire, o a contenere, magari a conoscere, in qualche cosa di utile che forma noi e forma i ragazzi, allora la risposta è che a scuola, equip medico psicopedagogiche, che formano gli insegnanti, che collegano gli insegnanti a genitori, che mettono in moto la formazione per tutti quanti, che agiscono nel pomeriggio, perché salette, spazi ci sono e possono circuitare e far veicolare la cultura, diventino fondamentali. Io ho finito. La cosa che vi prego di non dimenticare proprio, è che la responsabilità degli adulti che mettono al mondo dei bambini e di quelli che non li hanno messi al mondo ma li educano, è talmente grande che nessun atto è più importante che l'atto di crescere ed educare i bambini, è che i bambini sono non solo il futuro, vabbè, pic e pack, sono quelli che siamo stati noi, sono la parte migliore di noi. Applausi